Proteggere le aziende del territorio attraverso un'amministrazione che sia in grado di valorizzarle guidando una vera e propria rete di imprese. E' la ricetta per il rilancio dell'economia locale secondo Giovanna Bruno in corsa per la carica di sindaco alle prossime elezioni comunali di Andria. La candidata ha preso parte ieri ad un incontro organizzato dal Partito Democratico in Larguapiani, assieme al Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri. L'occasione per discutere di occupazione e sostegno alle imprese, il vero motore per lo sviluppo dell'intero territorio. In questa campagna elettorale ho riscoperto un tessuto produttivo di una importanza, di una bellezza, di una laboriosità incredibile. Però ho come avuto l'impressione netta che si tratta di tante isole, ogni imprenditore è un'isola a sé, perché in questi anni non sono stati abituati a fare rete. La rete, come in tutti i settori della nostra città, può diventare un valore aggiunto, soprattutto se il processo è governato. L'amministrazione deve essere ovviamente la guida di questo processo, deve poter fornire gli strumenti utili, deve poter creare i collegamenti giusti, quindi la regione e quindi il governo centrale, per dare la possibilità alla rete imprenditoriale di trarre il maggior profitto da tutti gli strumenti che sono messi a disposizione. Tra gli ospiti intervenuti, la senatrice del Partito Democratico, Assuntela Messina. Stiamo mettendo in campo forza, competenza, volontà e soprattutto i fondi, i fondi che arriveranno ai nostri territori, perché effettivamente possano sviluppare al meglio le proprie esigenze. La candidatura di Giovanna Bruno è una candidatura esemplare, necessaria, ed è una candidatura che dobbiamo porre tutti nell'ottica di un cambiamento assolutamente necessario per questa città. Sostegno alle imprese per rilanciare l'economia di tutto il Mezzogiorno. Il programma dell'attuale governo, che ha già varato una serie di misure in grado di supportare le aziende del Sud, assieme ad un piano straordinario di investimenti. Abbiamo varato la fiscalità di vantaggio del Mezzogiorno, una misura senza precedenti, che da ottobre renderà il costo del lavoro, il 30%, meno costoso in termini di contributi e vogliamo rendere questa misura strutturale per dieci anni per sostenere il rilancio del Sud insieme a un piano straordinario di investimenti in infrastrutture, materiali e immateriali, in formazione, in welfare, in sanità. E nuove opportunità per la ripresa economica post-lockdown sono in arrivo anche dall'Europa. Oggi abbiamo un programma di 750 miliardi di Eurobond, che porterà 209 miliardi all'Italia. Un'opportunità unica e il Sud sarà protagonista di questo piano di rilancio. La Puglia è stata una regione che in questi anni ha saputo guardare avanti, guardare all'innovazione, alla sostenibilità. È un esempio di un Sud che ce la può fare e col sostegno del Recovery Fund e con una guida come Michele Emiliano può essere davvero una regione all'avanguardia di una stagione di riscatto e rilancio del Mezzogiorno e dell'Italia. Un ultimo appello lo faccio per le regionali.